L'epifania tutte le feste si porta via, il borsellino di papà si stringe e non ci sono più spiccioli per i giocattoli. La manifattura artigiana di giocattoli ha fatto quest'anno autentici miracoli. L'ispirazione e il gusto italiani hanno trionfato surclassando la concorrenza. In fatto di creazioni in feltro e peluche, i nostri giocattolai hanno dimostrato di non avere rivali, ispirandosi persino per la scelta di una tinta o di un'espressione dal vivo al cane guardiano della ditta. Animali microscopici o giganti, tascabili o cavalcabili di ogni tipo e razza hanno fatto la felicità di legioni, di bimbi buoni e di quelli che con solerte impegno caveranno gli occhi a questi graziosi animaletti.